Continua la polemica sugli aumenti tariffari nelle autostrade della nostra regione, in particolare sulla A24 e sulla A25 gestite da Autostrada dei Parchi. La posizione delle associazioni di categoria resta fortemente critica con la Confartigianato Abruzzo, che definisce inaccettabile l'aumento tariffario. I pedaggi di A24 e A25, sottolineano il direttore dell'associazione Daniele Giangiulli e il presidente di Confartigianato Trasporti Abruzzo, Gabriele Sillari, Negli ultimi 13 anni sono aumentati del 187%, tariffe spropositate soprattutto se si considera, scrive l'associazione, che si tratta di autostrade vecchie ed insicure. La cosa ancora più assurda, conclude la nota, è che tutto ciò accade nel silenzio assordante della giunta regionale del presidente Luciano D'Alfonso. Non si è fatta attendere la replica di Autostrada dei Parchi, che sottolinea come l'aumento maggiore sia di 30 centesimi e riguardi le tratte più lunghe, in particolare la Roma-Chieti-Pescara, che passa da 19,10 euro a 19,40 euro. Nell'ario intorno all'Aquila continua la nota del gestore autostradare il massimo dell'incremento pari a 10 centesimi e per il tratto l'Aquila-Est-Avezzano, mentre non ci sarà nessun aumento nella tratta l'Aquila-Ovest-Avezzano, grazie ad un meccanismo di norme che prevede una soglia minima sotto la quale si fa un arrotondamento per difetto dell'aliquota. Anche i pendolari che da Pescara devono raggiungere l'Aquila uscendo a bus, si scrive ancora Autostrada dei Parchi, troveranno invariata la tariffa della tratta. Il gestore parla di polemiche strumentali e abitudinarie davanti a incrementi molto contenuti, ricordando ai pendolari che esiste sempre la possibilità di abbattere fino al 20% il costo dell'autostrada per chi possiede un telepass.